Ragazzi è appena successo una cosa magnifica, ho appena finito di registrare un altro video che vedrete domani Ed è successo una cosa veramente grande per me, cioè sto ancora tremando, ok? Praticamente è successo che dopo aver finito di montare questo video sono andato su YouTube C'era la live di Fancy, Fancy tra l'altro è un YouTuber grandissimo, spero tu ti rimetta, spero ti rimetta dal tumore che tu hai E niente, è successo una cosa incredibile, il fatto che mi ha salutato in diretta Mi ha salutato in diretta perché ho donato 2€ in super chat, ho donato 2€, ho scritto semplicemente Farmi salutare da Fancy, tra l'altro vi lascio il canale qui sotto in descrizione se non lo seguite ancora Era uno dei miei sogni più grandi e sono riuscito a realizzarlo Tra l'altro nel prossimo video alla fine ci sarà una domanda, quindi vedete tutto quanto il video mi raccomando Vedete sotto nei commenti del prossimo video se volete che io vada a fare quella cosa E' il cane che mi sta scassando la guallera Se volete vedere la clip ce l'ho, infatti stavo registrando in quel momento perché casomai mi avessi salutato l'avrei registrato Purtroppo l'audio di Fancy si sente male, ha detto anche che deve cambiare il computer quindi non fa niente Ci vediamo domani ovvero mercoledì alle 14 per il prossimo video E niente questo è quello che è successo in diretta Dai, leggi il mio cacchio, leggi il mio, leggi il mio, ti prego Ho donato praticamente 2 euro E non ho scritto niente Altri 2 euro ci ho scritto una cosina che poi forse legge Ecco, sì Il primo lo ha letto, vediamo il secondo se lo legge Eccolo Altri 2 euro sempre per Luca Ci ho preso insieme di un'idoli più grande Sono veramente contento di questo Eccolo 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 Grazie.